Siamo qui con Uccio Savoca, capitano degli Airstyle, allora Uccio, un giudizio sulla partita di oggi, un pareggio che purtroppo vi fa fuori dalla Unifrance League? Sì, è stata una bella partita, però come hai detto tu il pareggio non è servito a nessuno dei due, quindi ci facciamo con tranquillità la cup, sperando che possiamo fare bene lì. Troppo nervosismo in campo, cosa è successo? Vabbè dai, non allarghiamo troppo le cose, ci sta un po' di nervosismo in campo, l'importante è che quando siamo fuori siamo tranquilli. Torniamo al calcio giocato, come mai nelle ultime partite tutti questi risultati negativi? Se lo sapevo non ero qui a parlare con te, forse ero a fare il mago, purtroppo succede, abbiamo avuto un calo, soprattutto a fine stagione, te l'ho detto, ci facciamo la cup con tranquillità, sperando di fare bene. Un giudizio sul vostro portiere, non è il titolare, ma ha fatto una grande partita? Sì, sì, ha fatto una grandissima partita, volevo fare anche i complimenti al nostro difensore Miraglia, ha fatto una grandissima partita anche lui, però io spero che torni sempre il nostro portiere editorale che è molto forte. Va bene, grazie. Come? Ho detto grazie. Grazie a te.